Nessuno degli alieni che mi hai mostrato ha la capacità di impedire alla nave di entrare in orbita tra 30 secondi. Scusa, ma c'è ancora un alieno che non hai incontrato. E il suo nome è Plus Ultra? Goditi il volo, perché sto per mandare questa nave dritta nell'immondizio. Ma quello è un metamorfo del varico. No! Sì! In arrivo per te è un gigantesco depotenziamento! Nonno, dobbiamo andare ad aiutare Ben. Abbiamo fatto il possibile. Ora tocca a lui. Qualcosa la sta già facendo. No! Che cosa hai combinato alla mia stranale? Non lo so, ma di sicuro niente di buono. Dovresti farla riparare. Molto furbo, ragazzo. Ma ora ti hai condannati entrambi. Non puoi fuggire e l'Omnitex non ti sarà più d'aiuto. Se la mia stranale affonderà, tu affonderai con lei. Fuggire? Omnitex? Ho trovato! Ma tu! Che è successo all'Omnitrix? Ora basta. Sono d'accordo con te. Adesso ti distruggerò. E dopo distruggerò questo mondo patetico. Ecco perché mi fai imbestialire. Non ti basta avermi rovinato la giornata. Devi rovinarla tutti gli altri. Dove credi di andare? Ormai sei acqua passata. Amico, vuoi il mio Omnitrix? Questo Omnitrix? Spottuatamente. Ho altri piani per lui. Non è possibile cambiare questa velocità. Forse no, ma ultimamente ho fatto pratica di trasformazioni repentine. Io ho vinto, tu hai perso. Oh no! Sta affondando! Ben! Lui, lui ha salvato il pianeta. Ha salvato l'universo intero. Scusate! Non sapevo come interrompere senza rovinare la scena. Ben! Venite qua, ragazzi. Ben! 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 Grazie!